Grande successo a Marsala per l'evento Shocked Ground, il torneo di street basket che si è tenuto in piazza della Vittoria dal 27 fino al 30 luglio. Tantissimi gli appassionati di basket e non solo che hanno trascorso insieme appassionate e avvincente i serati di gioco, tra musica e performance che hanno accompagnato il torneo. Organizzato dalla MVP, l'evento cestistico ha ricevuto quest'anno anche un bel riconoscimento da parte della Federazione Italiana Pallacanestro. Ha infatti ospitato le finali regionali 3x3 delle categorie Under 14, 16 e 18. Tra gli appuntamenti più importanti all'interno del Shocked Ground, lo street art con Fabio Ingrassia e poi la pole dance di Marco Dazza, protagonista anche DJ Delta per la Black Siciliana che da oltre 20 anni ha collaborato con diversi gruppi pop nazionali e internazionali. Sul palco poi si sono esibiti i Ducking Devils, gli acrobati sotto canestro di fama mondiale. L'evento è infine terminato domenica con il concerto degli Shaka Lab.